Niente ragazzi, stiamo andando per merenda, una sfiga dietro l'altra, sono entrati dentro la macchina di scagaggio, guardate, rotta tutta, da una parte, dalla mia parte, ho entrato proprio uno dentro, ho sparato, infatti mi sono presa pure un colpo qua sulla spalla, però niente di grave, l'importante è che stiamo bene, però ho entrato sparato dentro la mia quartiera. Ho fatto un urlo che non vi dico, perché in quelle frazioni di secondo non riesce proprio quello che stava succedendo e niente, ora la sta vedendo Sergio, povero vizio, io che volevo andare a fare merenda tranquilla, ce n'è sempre una. Oh Greta, mamma mia, che rottura di scatole, tu sei a Roma, ti fai le tue vancanze romane, ti arrivano con la macchina sulla portiera, vabbè, speriamo che Sergio risolva tutto, vi lascio con un particolare dell'auto, ciao. Ciao.